Krasny Oktyaber, ottobre rosso, sono due parole in russo che identificano la vecchia acciaieria dell'ex Salingrado, attuale Volgograd, la vecchia fabbrica di trattori e non solo un simbolo della resistenza durante la Seconda Guerra Mondiale o Grande Guerra Patriotica per i russi e gli ex popoli sovietici, ma identifica anche un fantomatico sommergibile della classe tifone, un incrociatore sommergibile, un mostro di decine di migliaia di tonnellate capace di navigare con un rivoluzionario e fantascientifico sistema di propulsione idrodinamica perfettamente in silenzio e di arrivare a destinazione per poi bersagliare il proprio obiettivo con missili balistici intercontinentali. È una storia che ha fatto scalpore, che è diventata un libro di successo scritto dal romanziere americano Tom Clancy ed è arrivata anche sul grande schermo. Commetto che più di qualcuno tra di voi, quando ha sentito il nome Ottobre Rosso, ha ripensato a Sean Connery nei panni del comandante lituano Marco Ramius, il suo secondo Sam Neill, magari anche la colonna sonora con il famoso inno scritto da Basil Poleduris. Ok, fino a questo momento parliamo di letteratura romanzata e cinema. Ma nella realtà? Nella realtà non è esistito un Ottobre Rosso, non è esistito un altro esemplare della classe Tifone. Certo, i Tifone sono esistiti, sono stati uno spauracchio per lungo tempo per le marine della Nato in ambito atlantico e non solo, ma quelle sono storie passate. Quello di cui oggi vogliamo parlare non è l'Ottobre Rosso come film o come romanzo, ma una vicenda che ha ispirato Tom Clancy e poi gli sceneggiatori del film. Una vicenda reale, un ammutinamento, l'ammutinamento di una fregata di nome Storge Voy. Gli ammutinamenti fanno parte della storia marinara, forse il più famoso in assoluto è quello del bounty, ma non solo. Ripensiamo al Novecento, a quanti ammutinamenti ci sono stati. Nel 1905 c'è l'ammutinamento della corazzata Potionkin, quella che nel secondo tragico Fantozzi diventa la corazzata Cotionkin per una questione più che altro di copyright. Al di là della vicenda fantoziana, la Potionkin, che era una corazzata Policalibro, si ammutinò nel 1905 in seguito, non solo ai disastrosi esiti della guerra russo-giapponese, ma soprattutto di un evento terrificante per gli uomini a bordo, che vennero costretti dagli ufficiali a mangiare come rancio della carne avariata con dei vermi. Da quella sfida, da quell'atto di estrema malvagità, sorse un movimento rivoluzionario che ebbe nella Potionkin il suo punto nevralgico e che avrebbe messo in seria discussione il primato zarista nella zona del Mar Nero per un po' di tempo, al punto che la Potionkin, dopo i fatti rivoluzionari, venne rinominata, venne cambiato nome per evitare gli ecchi del passato. E poi c'è il caso, come detto, dello storage voile. Una nave, una fregata, che faceva parte della flotta del Mar Baltico e che a un certo punto visse un ammutinamento. Un ammutinamento molto particolare. Cominciamo dalla figura dell'ispiratore, del capo della rivolta. Se voi pensate al film Ottobre Rosso, immaginate subito, come detto, Sean Connery, Marco Ramius, che manda una lettera all'ammiraglio Badorin, il capo della flotta sommergibili, e poi a bordo uccide, con la scusa di un incidente col tè, lo Zampalit, l'ufficiale politico che, curiosità di cognome, fa Putin. Ora non perdiamoci in questioni dietrologiche, ma l'ammutinamento dello storage voile parte proprio da uno Zampali, da quegli ufficiali politici che, in gran parte, venivano mal visti a bordo della VNOMORSKOI FLOT, perché solo pochi di questi avevano un'effettiva esperienza in mare e un'esperienza di combattimento. La stragrande maggioranza erano degli apparatchik, cioè dei membri dell'apparato dello Stato, degli spioni di partito mandati a bordo delle unità per garantire la fedeltà politica dell'equipaggio e assicurarsi che nessuno a bordo avanzasse idee, come si dice all'epoca, controrivoluzionarie, cioè contrarie alla politica sovietica. Lo Zampalit della nostra storia era il capitano di Corvetta, Valery Sabli. È lui a dare il via alla rivolta, e già questo è un qualcosa che farebbe inarcare più di un sopracciglio, ma come? Una nave battente bandiera sovietica che si ribella all'Unione Sovietica sotto la guida dell'ufficiale politico? Sì, perché l'intento di Sablin non era disertare per l'Occidente, come avviene nel film e nel libro. No, voleva lanciare un messaggio per denunciare le troppe storture interne al PQS. Sablin aveva toccato con mano, al pari di tanti suoi colleghi, tutte le storture, tutte le incongruenze del regime sovietico. Un regime che teoricamente doveva glorificare il lavoro e dare la parità a tutti quanti, ma in realtà era un'oligarchia in cui i vertici, i membri del presidium, le altre sfere militari, godevano di un'ottima vita e tutti gli altri, morivano di fame. Era questo che non sopportava Sablin. Il fatto che la dirigenza del PQS si fosse venduta all'anima, avesse rinnegato i principi del socialismo di Marx e di Lenin per abbracciare una via molto differente, una via corrotta. E quindi Sablin voleva intervenire lanciando un messaggio. Il suo piano era quello di prendere il controllo dello Storjovoi ancorato nel Mar Baltico, portarlo a Leningrado, l'attuale San Pietroburgo, ancorarlo al fianco del vecchio incrociatore Avrora, quello che aveva sparato le prime cannonate contro il Palazzo d'Inverno nella Rivoluzione d'Ottobre, e da lì mandare un radiomessaggio di protesta. Doveva essere un'azione prettamente simbolica. Sablin, tra l'altro avendo comunque una certa esperienza, aveva elaborato il proprio piano in maniera piuttosto dettagliata. Prima affrontare il comandante, insieme agli ufficiali della plancia, e metterli agli arresti. Poi parlare agli altri ufficiali, alla truppa, convincerli. Infine approfittare delle manovre diurne della flotta del Mar Baltico per navigare in tranquillità, staccarsi solo all'ultimo della formazione e dirigersi a Leningrado. Il piano di Sablin era non perfetto, ma ben congegnato. Ed effettivamente, la sera del 9 novembre del 1975, quando scatta questo piano, all'inizio sembra tutto andare per il verso giusto. Sablin attira nel ponte inferiore il comandante e gli altri ufficiali di plancia, con una scusa. La scusa di discutere una direttiva politica appena arrivata dal comando della flotta di Leningrado. Ovviamente non c'è nessuna nuova direttiva. Sablin ne approfitta per impugnare le armi e mettere tutti agli arresti. Li blocca gli ufficiali della plancia nel compartimento del sonar prodiero. Li chiude dentro in un compartimento stagno. Così Sablin riesce a ottenere il controllo pieno della nave. Certo, non ha finito, perché a bordo ci sono altri 160 uomini, tra ufficiali, sotto ufficiali e truppa. Quindi li deve convincere. Li convince prima parlando appunto con i graduati, la metà di questi lo seguono, gli altri vengono anche questi posti agli arresti, e poi quei marinai che tutto sommato accettano di seguire Sablin. Perché a differenza di altri Zappalit, lui viene tenuto in buona considerazione dagli uomini a bordo. Non lo ritengono un gatto grasso, come si dice in gergo. Non è un membro del partito che è andato lì solo per puntare il dito senza nemmeno sapere come funzioni una nave. Sablin è un marinaio e gli altri marinai lo rispettano. Quindi decidono di seguirlo. D'altronde si tratta di riportare l'Unione Sovietica alle sue radici, di riportarla su quella che viene ritenuta da loro la retta via. I problemi per Sablin però nascono quella notte stessa. Perché uno degli ufficiali che inizialmente gli aveva promesso fedeltà ci ripensa. Con una scusa riesce a scendere alla passerella e a recarsi alla garitta di guardia. Informa la guardia di un tentativo di ammutinamento a bordo, ma non viene creduto. Il problema è che Sablin in quel momento perde la freddezza e si lascia prendere dal panico. Teme di essere scoperto e di essere bloccato in porto prima ancora di riuscire a partire. Ecco perché rinuncia a tutte le altre precauzioni e dà l'ordine di mollare gli ormeggi e di salpare immediatamente per approfittare dell'oscurità e prendere il largo. La fuga dello Storge Voye viene scoperta in fretta. Prima dell'alba c'è tutta la flotta del Baltico che gli dà la caccia. Parliamo di una flotta piuttosto imponente con numerose navi da guerra. Non solo, in supporto arrivano anche gli aerei, una sessantina, compresi dei bombardieri di quota armati con siluri a ricerca sonica. Questo ci può ricordare un po' Caccia Ottobre Rosso, la famosa scena del canale dei gemelli di Thor. Ebbene, per tutta la giornata lo Storge Voye procede in direzione di Kronstadt, la base navale vicina a Leningrado. Viene tallonato dalla flotta, viene fatto oggetto del lancio di bombe da oltre due quintali che non devono colpire la nave ma la devono rallentare. Una di queste esplode a poppa via e nell'urto dell'esplosione danneggia il timone. La nave non può più navigare, si ferma a 37 miglia nautiche dal limite delle acque territoriali svedesi. Basterebbe poco allo Storge Voye per cambiare rotta e magari rifugiarsi in Svezia, chiedere asilo politico. Certo sarebbe una crisi diplomatica, uno scandalo internazionale, ma soprattutto per Sablin sarebbe un vero e proprio fallimento. Il guaio è che senza timone funzionante la nave è ingovernabile ed è costretta a fermarsi. Quando il resto della flotta arriva viene dato l'ordine di abbordaggio con la possibilità di sparare. Sablin viene ferito, ma in maniera non grave. Altri membri dell'equipaggio vengono feriti, il resto viene messo agli arresti. Il comandante e gli altri ufficiali sono liberati e la nave è trainata in porto. Il tentativo di ammutinamento dello Storge Voye è fallito. Non c'è il lieto fine come in Ottobre Rosso, non c'è l'intervento americano, non c'è la possibilità di ingannare i sovietici come avviene nel libro e nel film. Questa volta no. Lo Storge Voye viene riportato a casa, Sablin e un altro uomo a bordo, il suo secondo in comando, Alexander Schein, vengono arrestati, processati e condannati. Sablin è condannato per alto tradimento nel luglio del 76, alcuni mesi dopo la vicenda, e viene giustiziato il 3 agosto del 1976. Schein invece è condannato al carcere. Viene rilasciato nel 1984, dopo otto anni di galera. Il resto dell'equipaggio viene rimesso in servizio temporaneamente, in attesa di una decisione che arriva dal comando della flotta, che è quella del congedo anticipato con disonore e dal licenziamento. Tutti i marinai a bordo vengono rispediti a casa e devono trovarsi dei nuovi lavori. C'è chi finisce in fabbrica, chi va a fare il minatore, chi lo scaricatore di porto. Ci si deve ingegnare per ritrovare qualcosa da fare. Lo Storjevoi tornerà in servizio, verrà riportato al proprio ruolo. E infine, alla fine degli anni 90, dopo il crollo dell'Unione Sovietica, sarà trasferito alla flotta del Pacifico e infine venduto per essere demolito. La demolizione avverrà in India, in un cantiere navale. A differenza della Potomkin, allo Storjevoi non viene cambiato il nome. Ma l'incidente viene comunque nascosto all'opinione pubblica sovietica. Si viene solo a sapere che Sablin era un traditore, un contro rivoluzionario, forse viene detto un agente, una spia degli servizi occidentali e per questo ha pagato con la vita. Di tutto il resto non si viene a sapere nulla, almeno all'interno dell'Unione Sovietica. Se ne viene a sapere invece in Occidente, dove Gregory Young scrive nella propria tesi di laurea del 1982, proprio nell'episodio dello Storjevoi, la tesi dal titolo Mutiny on Storjevoi, a case study of dissidents in Soviet Navy, trova ampia pubblicazione e viene depositata negli archivi del United States Naval Academy. Qui Tom Clancy la trova, la legge, e matura l'idea. L'idea per il libro, la grande fuga da Ottobre Rosso, da cui poi vi è entrato il film. Un libro molto interessante, con qualche errore, al pari del film, ma con un lieto fine che solo i romanzi e la celluloide sanno regalare. Un lieto fine che non ripaga, chiaramente, Sablin e gli uomini dello Storjevoi del loro sacrificio, e che non gli rende nemmeno giustizia, ma a volte, per raccontare la storia, occorre anche ricorrere a degli artifici di questo genere, parlando di eroi inventati al posto di persone reali, parlando di navi mai esistite al posto di navi esistenti, e stravolgendo le vicende a uso e consumo del grande pubblico, affinché magari maturi una piccola coscienza e si domandi cosa sta davvero avvenendo dall'altra parte del mondo. Una domanda che a volte dovremmo porci anche noi, soprattutto di questi tempi, non lasciandoci sviare dalla propaganda o da notizie all'esemente inventate. Pensateci, e intanto grazie ancora di aver visto il nostro canale.